So quanto stai lavorando e non volevo disturbarti Dopo aver lavorato sodo un intero anno Sì, parte! Oh no! È il quadro elettrico, forse La madre single, Lore, vuole prendersi una meritata pausa natalizia Questo ti fa sembrare davvero imbranato Ma c'è ancora qualcuno? Servirebbe aiuto per una cosa Per cosa? Che ha bisogno di lei? Per il ciclo, Magic Night Che cos'è? Un cucciolo di corgine Un Natale da corghe Entra le cappelle Lunedì in prima serata Sulla 5